Pensare globalmente e agire localmente. E' la filosofia che in soli dieci anni ha consentito al mercato sanseverino di affermarsi tra i comuni italiani più attenti alle tematiche ambientali. Talmente attenti da anticipare il legislatore. Con delibera di giunta l'amministrazione ha acquisito la direttiva europea che invita gli enti locali a orientare la spesa pubblica sull'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati. In settimana il vice sindaco romano ha presentato il manuale Acquisti Verdi. Il testo che raccoglie le aziende che adottano procedure di produzione eco-compatibili e che da oggi costituirà la bussola della spesa pubblica comunale. Nelle menze scolastiche sono già state sostituite le stoviglie di plastica con quelle fatte in amido di mais. Da domani si sceglieranno con lo stesso criterio dispositivi elettrici, strumenti di scrittura e apparecchi audio-video. Il meccanismo è semplice. Nelle gare d'appalto saranno assegnati più punti a chi produce secondo natura. Per questo piccolo comune del Salernitano gli obiettivi di Chioto non sono poi così lontani.